ci troviamo dritto alla madonnina di schiavole a tutto qua a tutto qua se c'è qualcuno che ti deve far stare bene è Dio e la maronna no a maronna può riferire a Dio ma quello che comanda su tutto è lui è lui solo e chi può guarire è Dio no che si dice così è scritto è scritto è scritto i profeti l'ho visto li leggo poi se è verità o meno non tocca a me a dirlo comunque lì il fuoco aumenta sempre di più è perché qui quando si deve pulire l'erba l'erbaccia è così che si pulisce mettendoci fuoco e spregionare Dio sino allo stato puro per tutto il paese e questo è il porto di Corriano il porto di Corriano Rossano detto Coglione Rosso Corriano Rossano Coglione Rosso non sapevo 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 ecco mo'azza mo'azza pe pari adesso la sai ci sta bene cosa ci sta bene cosa ci sta bene è normale hanno fatto guarda Doria come ha fatto tu e poi tu non ti va a farci pure in giuliette verso meno sui e due e due fino ai cittadini dai di daeri di sera leone e di giorno mi fare a rire con du pochieri Sì, non vorrei che ci ammigli, perché io sono sempre non voglio. Ha visto che non ti ha fermato? Che non mi ha fermato? E i boi. I boi mi ha fermato. Lui chi ci vuole? Ti parla. Ti parla. Ti parla. Ok, a che non vorrei un saluto? A tutti quanti amici e tutti quanti cristiani. E a tutti quelli che ci seguono, dai, a tutti i calabresi nel mondo. Ciao, ciao. Ciao.